Questa crisi, da questa innesima crisi, si esce solo se si punta dritto alle energie pulite, se si riprende con ancora più slancio il percorso dello sviluppo dell'energia rinnovabile. Lo scriviamo oggi sul Sole 24 Ore. In Italia non mancano i progetti, non mancano proposte. C'è un problema ben evidenziato nella relazione che tra poco ci farà Edoronchi di ipermeeting, di lentezze burocratiche, di sistemi autorizzativi che creano grandi ritardi, ma il mercato c'è. Ci sono le richieste di connessione alla rete elettrica, quindi questo Paese ha in sé il potenziale per marcare nuove eccellenze. Lo ha già fatto, lo leggiamo spesso sui giornali, lo ricorderà anche oggi la relazione, sul riciclo, sull'economia circolare. Noi abbiamo la possibilità di diventare leader anche su altri versanti. Come diceva Paolo Gentiloni, dobbiamo lavorare insieme e stringere sempre di più un'alleanza tra il pubblico e il privato. Allora, prima di introdurre la relazione di Edoronchi, io intanto chiederei agli ospiti della tavola rotonda che si aprirà poco dopo e che vedo in prima fila, Simona Bonafè, Gianni Girotto e Alessandra Galloni, e di raggiungermi intanto sul palco, così ascoltiamo insieme da questa parte della sala la relazione di Edoronchi. Chi si alza per primo? Io lancierei una monetina, però poi fate voi. Grazie. Decidete liberamente con lo stesso sistema monetina qual è il posto che preferite. Allora, beh, l'uomo accanto alla moderatrice e le due donne, così insomma, beato tra le donne non è mai, come in questo caso, una frase adeguata alla circostanza. Allora, Edoronchi intanto ci ha raggiunto, gli lascio il palco per questa relazione che ho letto in anteprima e che è veramente come sempre una fotografia molto puntuale del stato di salute della Green Economy in Italia. Grazie. Allora, questa undicesima edizione degli Stati Generali, in un contesto che, certo non è ordinario, ma dopo la pandemia speravamo in una ripresa, è arrivata a sta botta dell'aggressione, della guerra della Russia contro l'Ucraina, il picco dell'energia e tutta la serie di problemi che ne sono conseguiti. E questo ha coinciso in Italia anche col cambio, col nuovo Parlamento e il nuovo Governo. In questo contesto c'è parso opportuno dare la parola alle imprese, cioè fare un'indagine che chiedesse direttamente alle imprese sul tema della transizione ecologica che valutazioni esprimono, cosa stanno facendo, qual è la situazione reale, perché ovviamente poi ciascuno può interpretare i dati come meglio crede, però è importante partire, almeno così abbiamo pensato, in questa undicesima edizione, di capire come si sta muovendo concretamente il mondo delle imprese italiane. L'indagine è stata condotta con EY, ex Ernest Young, meglio conosciuta, insieme alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha riguardato i principali settori della manifattura, dell'agricoltura, delle utilities, dei grandi retailers, delle costruzioni, degli operatori logistici e dei servizi della comunicazione e informazione, del nord, del centro e del sud. Io darò solo alcune immagini flash di questa indagine che sarà meglio illustrata sicuramente domani mattina dalla collega di EY. Cominciamo con come considerano gli imprenditori, perché quelli intervistati sono imprenditori, la transizione ecologica e dichiarano un livello di attenzione fra molto elevato, con attenzione buona ed elevata, all'86%. Direi che il tema è penetrato nelle imprese, fra gli imprenditori. Anche se il livello di conoscenza definito di buon livello è solo del 35% e la domanda di maggiore informazione, cioè di chi dice però la conoscenza che è un po' generica, è piuttosto elevata, è il 60%. Le preoccupazioni principali in questo momento, l'indagine è stata svolta a settembre, quindi è recente nel momento clou della crisi anche dei prezzi dell'energia. Ovviamente gli alti costi dell'energia fanno col voto più alto della preoccupazione, nell'86%, insieme a difficoltà di approvvigianamento e gli alti prezzi delle materie prime. Tema un po' trascurato, ma le imprese lo richiamano con grande attenzione, 72%. Poi il voto intermedio del 6 al 7, pure significativo, ma devo stringere. C'è ovviamente in questo contesto geopolitico con questa guerra in Europa è anche questo un fattore di preoccupazione per il 60%, ma anche l'aumento dei costi per gli eventi atmosferici estremi, cioè per la crisi climatica, regista a fare gli imprenditori un livello elevato al 44%, un livello piuttosto significativo, e comunque anche un 31% un livello classificabile come medio. Le valutazioni degli imprenditori sulla transizione ecologica, questo dato è stato già citato dal Presidente Cagnoni, a dire la verità ha colpito un po' anche noi, perché l'83%, tenete conto dell'ampiezza del campione, dichiara che è un cambiamento necessario per affrontare la crisi climatica e la scarsità di risorse naturali e per poter puntare su un futuro prospero. E un 76% dice anche che non è che dovremmo stare e aspettare cosa fanno gli altri, ma dovremmo puntare a guidare la transizione ecologica per stare nel gruppo avanzato delle economie mondiali. c'erano anche le domande diciamo più critiche, la transizione ecologica non è così importante, abbiamo altre priorità, è significativo, è solo un 18%, ma c'è questa posizione, evidentemente. E anche dovremmo frenare le misure per non esporci troppo, 39%, però rispetto a chi vuole accelerare è il 76%. La previsione e gli impatti della transizione ecologica a questo punto non è più un'opinione, ma sulla propria azienda promuoverà investimenti per innovazioni, 60%, contribuisce a migliorare il posizionamento dell'azienda sul mercato, 51%, porterà nuove assunzioni, 37%, porterà un taglio del personale, 14%. E qui lo sappiamo, alcuni settori hanno un'aspettativa di riduzione, perché ci sono dalle conversioni, però attenti che chi si aspetta un aumento, anzi già nella propria impresa registra un aumento, è più del doppio. E quindi il saldo viene giudicato attivo. Abbiamo poi indagato a che punto sono le imprese su alcune attività che abbiamo chiamato tipiche della transizione ecologica. Quindi non parliamo di opinione, ma se è un'attività resa operativa, se è un obiettivo già in agenda, se è un'attività che stiamo valutando o non è un'attività che pensiamo di realizzare. Partiamo da quelle con le percentuali più alte, l'uso efficiente di energie, materiali e acqua, il 55% è già attivo, il 19% è in agenda, quindi è certamente questo. Ma anche ridurre la produzione di rifiuti, avviare il riciclo di quelli generati, 49% e 19% e compreso il 18% di quelli che stanno valutando, fa l'86%. L'utilizzo delle fonti rinnovabili, il 34% è già misure operative, il 18% ce l'ha in agenda e bene il 31% la sta valutando. Quindi c'è una grande attenzione delle imprese sul potenziale sviluppo dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. La riduzione e l'azzeramento delle emissioni di gas serra e solo il 21% le sta attuando, il 19% ce l'ha in agenda, però col 24% che le sta valutando abbiamo un 64% di imprese che considera le misure di impegno per la riduzione di gas serra come un impegno comunque da considerare. I benefici riscontrati nel percorso della transizione ecologica, la riduzione dei costi di produzione, il 27%, il miglioramento della reputazione sul mercato ovviamente è un aspetto importante il 24%, l'aumento dei ricavi finali il 15%, il consolidamento di partnership il 15%, ma qui c'è quel 42% di nessun vantaggio e come si interpreta? Ovviamente qui sono vantaggi già acquisiti e quindi una interpretazione possibile che l'aspettativa è a medio o lungo termine per i ritorni non a breve ma c'è anche un altro aspetto da non trascurare cioè ci sono aziende che per l'83 dovete compararlo con l'altro dato ritengono importante inevitabile necessario e poi una parte dice però io non ho vantaggi diretti esiste però una responsabilità sociale di impresa che vale per tutti anche quando non hai un vantaggio immediato diretto ma sei parte di una comunità la tua impresa ha un ruolo comunque sociale importante beh gli ostacoli superati qui nessuna sorpresa quelli concreti le barriere burocratiche però è molto alto e questo 50% è un tema ineludibile lo sappiamo bisogna essere più efficaci il nuovo tipo di finanziamenti 27 e le risorse il nuovo tipo diciamo accenna più alle nuove procedure le nuove modalità di finanziamento invece quelli usuali sono le risorse necessarie importanti però alla metà delle difficoltà incontrate delle procedure le barriere tecniche attuative sono solo del 17% e anche il modello di business come ostacolo al 15% alla fine abbiamo fatto un po' riassunto di questi vari indicatori vi risparmio il processo complicato e la classificazione complessiva di questo campione colloca il 45% delle imprese italiane nel gruppo delle advanced delle imprese collocabili in una posizione avanzata sulla transizione ecologica perché stanno utilizzando risorse consistenti per progetti e iniziative per la transizione ecologica stanno soprattutto sono soprattutto aziende medio grandi hanno una maggiore concentrazione nel nord hanno già sviluppato il loro business a livello internazionale sono più presenti sui mercati internazionali hanno la più alta concentrazione nell'agricoltura nel manifatturiero nelle utilities nelle costruzioni e nel grande retail le starter cioè quelli che stanno partendo hanno stanziato dei budget per progetti di transizione ecologica anche se hanno realizzato ancora solo poco 36% sono soprattutto media aziende sono localizzate prevalentemente nord e centro hanno prevalentemente un business focalizzato sul mercato italiano più alta concentrazione nella manifattura e nel retail ci sono i delayed cioè i ritardatari una quota 19% non banale non hanno programmato né adottato misure per la transizione ecologica sono soprattutto piccole aziende questo tema delle piccole aziende va tenuto ovviamente ben presente nel contesto produttivo italiano sviluppano il loro business prevalentemente nel mercato nazionale e la più alta concentrazione dove nel settore della comunicazione questo richiederebbe una riflessione e negli operatori della logistica questo era più atteso quindi il dato complessivo delle imprese italiane rispetto alla transizione ecologica è quello di un processo reale in atto non stiamo parlando di opinione ma di scelte concrete che sono radicate nel tessuto produttivo italiano e che riguarda in genere la parte più avanzata delle imprese italiane un secondo tema di riflessione è il punto sul piano nazionale di ripresa e resilienza perché siamo ad un passaggio delicato per le riforme e l'utilizzo delle risorse chiamiamola per la green transition pare che il termine detto in inglese piaccia di più chiamiamolo pure green transition non è che il PNR italiano come sapete prevede misure per 71,72 miliardi per la green transition al 37,5% dei 191 erotti secondo la classificazione che ha fatto la commissione europea nella valutazione della proposta di piano italiana la circular economy e l'agricoltura sostenibile a 5,26 miliardi l'energia rinnovabile l'idrogeno e la mobilità le linee le reti e la mobilità 23,7 l'efficienza energetica e la rigenerazione degli edifici 15 e qui c'è l'edrico bonus la protezione delle superfici del suolo e delle risorse idriche 15 miliardi circa nella rete ferroviaria anche questo è molto importante soprattutto per la parte urbana 24,7 e per la ricerca 11 e una parte di queste hanno delle ricadute importanti anche per il clima e questo rapporto fra l'utilizzo delle risorse del PNRR e la green transition è particolarmente importante parlare di transizioni ecologiche e trascurare questo dato vuol dire non aver presente diciamo un punto rilevantissimo di questo cambiamento per quanto riguarda l'Europa per quanto riguarda l'Italia nel contesto europeo i traguardi e gli obiettivi delle prime tre rate quelle del 21 del 22 del PNRR sono stati raggiunti 66,9 miliardi compreso il prefinanziamento sono stati erogati 19 miliardi della terza rata arriveranno all'inizio del prossimo anno restano 7 rate fino al 2026 ricordo che per raggiungere queste rate ci sono 376 traguardi e obiettivi da raggiungere per avere i rimanenti 105 miliardi l'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR in Italia è partito lentamente in parte era inevitabile perché devi avviare la macchina ci sono alcune riforme da far partire in parte è un piccolo segnale di preoccupazione sulla capacità di spesa solo 5,5 miliardi nel 21 e solo 15 miliardi nel 2022 e questo deriva il ministero dell'economia nella nota di aggiornamento del documento economia e finanza la previsione è poi di passare dai 15 del 22 ai 40 miliardi di spesa nel 23 46 nel 24 47 nel 25 e 36 35 e 9 nel 26 e i settori che tirano di più ve li risparmio per sintesi ma aggiungo c'era un richiamo di Paolo Gentiloni anche a Repaure EU che nel maggio la Commissione ha proposto questo piano per ridurre la dipendenza dai fossili importati dalla Russia che prevede circa 300 miliardi da ripartire fra gli Stati membri questo sarebbe un obiettivo da aggiungere ai PNRR da utilizzare con le medesime procedure e attenzione nel medesimo tempo col termine 2026 ora l'aumento dei prezzi delle energie e dei materiali da costruzione causato dalla guerra della Russia contro l'Ucraina è considerato ovviamente una circostanza oggettiva che potrebbe giustificare richieste di modifiche del PNRR occorre però fare attenzione a mio parere presentando nuovi progetti oltre al nuovo capitolo Repaure EU quello è già definito se si presentano questi progetti senza avere un impegno europeo a cambiare il termine per la loro realizzazione cioè se non si sposta il termine del 2026 fissato da regolamento europeo non è che basta richiederlo alla commissione c'è un regolamento quindi c'è tutta la procedura e il livello di consenso necessario per cambiare un regolamento se non c'è una ragionevole garanzia di uno spostamento del termine andrebbero limitati al minimo i cambiamenti dei progetti perché altrimenti il rischio di non rispettare il termine anche dato la capacità di spesa è molto alto e quindi si rischia di perdere dei finanziamenti e questo è penso un tema data la rilevanza che hanno queste risorse per la transizione per la green transition è un tema che può essere trascurato il secondo diciamo indirizzo è quello del regolamento europeo che stabilisce che tutte le misure finanziate dal PNRR non devono arrecare danno significativo all'ambiente e agli obiettivi ambientali obiettivi ambientali che sono la riduzione dell'emissione di gas serra e l'adattamento non danneggiare l'economia circolare non aumentare le emissioni nell'aria nell'acqua nel suolo non peggiorare lo stato dei corpi idrici eccetera lo dico perché abbiamo ascoltato alcune proposte di ridefinizione degli obiettivi e dei progetti con espliciti citazioni di attività che non possono rientrare nell'utilizzo dei fondi del PNR lo dico piani di intervento per la manutenzione alla realizzazione di nuove strade o ponti non possono rientrare dall'utilizzo di queste risorse impianti per l'estrazione di gas non possono rientrare veicoli non in linea con la riduzione dei gas serra quindi con i processi di elettrificazione comunque diciamo di scadenze già fissate ecco questo è molto importante averlo ben presente perché puntiamo ad accelerare e non a mettere dei freni e degli ostacoli alla transizione ecologica e l'ultimo punto sono alcune sottolineature sulle priorità ovviamente poi la relazione integrale sullo stato della Green Economy è pubblicata chi vuol leggerla può scaricarla dal sito degli stati generali della Green Economy il tema della riduzione dei costi dell'energia fossile e la dipendenza dal gas e quindi anche il tema connesso della sicurezza energetica per affrontare questi temi possiamo fare molto di più per la crescita delle energie rinnovabili qualche numero di riferimento dal 2015 al 2020 abbiamo aumentato le rinnovabili complessive solo di 0,2 megaterp le rinnovabili dovrebbero crescere dal 21% del 2020 al 45% al 2030 secondo i target i nuovi target europei da 21,3 megaterp a 43 megaterp cioè una crescita rispetto allo 0,2 dal 2015 al 2020 di 2 megaterp che vuol dire 10 volte di più le rinnovabili termiche sono praticamente ferme da 10 anni dovrebbero crescere da 10 a 1 nel 2020 a 15 megaterp al 2030 con la crescita delle pompe di calore del suore termico e anche della geotermia a bassa entalpia i biocarburanti sono stabili da 10 anni dovrebbero crescere da 1,3 almeno 3,5 megaterp e penso in particolare alla crescita del biometano le rinnovabili elettriche delle quali si parla molto negli ultimi 5 anni sono cresciute poco di soli 0,5 megaterp sono quelle che dovrebbero crescere di più da 10 a oltre 23 megaterp nel 2030 i dati dei primi 9 mesi del 2022 cioè questo 2022 è l'anno in cui si parla di più della necessità di aumentare le rinnovabili per questi maledetti alti costi del gas e tutti i problemi che ne derivano invece i primi 9 mesi indicano un calo rispetto al 2021 dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili meno 12,5% per il forte calo dell'idroelettrico meno 37 ovviamente il perché lo sappiamo ma abbiamo visto un'estate tremenda solo parzialmente compensato dall'aumento del fotovoltaico più 9,8% e dell'eolico 7,5% quindi l'aumento c'è stato guardiamo un attimo il fotovoltaico e vedete che dal 19 al 22 insomma da 24 a 28 teravattora se noi continuassimo nel 2022 stimiamo una crescita a fine anno di 3 teravattora non male e una potenza installata di nuovi impianti di 2,3 gigawatt però se andassimo avanti di questo passo vedete arriveremo a 53 teravattora nel 2030 ce ne servirebbero 125 per il target quindi vedete dovremmo passare da 2,3 gigawatt mettiamo 3 teravattora all'anno a 12 teravattora all'anno dovremmo moltiplicare per 4 la velocità per raggiungere il target questo dà l'idea dello sforzo che è necessario fare e da dove siamo e dove dovremmo arrivare l'eolico direi ancora meno bene crescerà da 1,5 teravattora l'anno 22 un anno ventoso positivo dal punto di vista della produzione la potenza è solo 0,6 gigawatt ne serve molto di più servirebbero 7,5 teravattora e 3,5 gigawatt in più l'anno se no i target non li raggiungiamo insomma quindi anche qui c'è un aumento della velocità molto un'accelerazione necessaria molto elevata le rinnovabili lo ripeto lo dicono tutti sono meno costose del gas sono disponibili sono indispensabili per la sicurezza energetica fanno bene al clima e all'occupazione cosa si deve fare per farle crescere di più e più rapidamente questa è la domanda poi faremo una sessione dedicata di questi stati generali la prima è io penso che si riflette poco su questa prima questione cioè bisogna contrastare con più decisione ignoranza e pregiudizi sulle rinnovabili perché ancora c'è ignoranza e ci sono pregiudizi sui vantaggi economici e ambientali sulle possibilità tecniche esistenti per risolvere la discontinuità di alcune di queste fonti per la loro capacità di fornire energia per la gran parte del fabbisogno nel giro di pochi anni e per il resto in pochi decenni secondo bisogna mettere in campo strategie misure avanzate ed efficace per farle crescere tutte servono misure più efficaci per accorciare i tempi e semplificare le procedure io ho in mente termini perentori dopo i quali decorsi i quali si procede a realizzare l'impianto semmai si controlla a posteriori servono target avanzati fissati con legge per fonte per settore coinvolgendo attivamente le regioni e le città per raggiungerli non per dire cosa non si fa solo cosa non si fa ma cosa devi fare come devi farlo partecipando direttamente al raggiungimento dei target bisogna attivare sia i cittadini sia le imprese rendendo però efficaci e operativi l'autoconsumo e le comunità energetiche siamo ancora in attesa del decreto per le funzionalità delle comunità energetiche occorre potenziare rapidamente gli accumuli si possono fare però bisogna farli servono investimenti ovviamente aumentare i fondi per ricerca alla diffusione dell'innovazione nel 2022 è aumentato l'allarme per il cambiamento climatico gli impatti economici e sociali della crisi climatica in Italia non vanno sottovalutati abbiamo avuto alcune settimane di temperature alte e di gente al mare a fine ottobre accolte con un entusiasmo da diversi media e anche da non pochi cittadini ma hanno un po' ricordato i passeggeri che ascoltavano beati l'orchestra che suonava mentre il Titanic era in rotta contro l'iceberg che l'avrebbe affondato attenzione a non ripetere questi atteggiamenti in questo 2022 la crisi climatica ha colpito duramente l'Italia siccità estese prolungata con fiumi in secca aridificazione di suoli danni all'agricoltura rapida scomparsa di ghiacciai sulle nostre montagne ondate di calore che hanno colpito in particolare le città incendi numerosi ed estesi uragani piogge violente alluvioni che hanno colpito molte aree e certo l'Italia deve fare la sua parte ma cominciamo col dire che l'Italia non è in traiettoria con il target europeo di taglio del 55% di gas serra e quindi non è in traiettoria con l'accordo di Parigi nel 2021 le emissioni di gas serra in Italia sono aumentate del 6,8% recuperando gran parte della riduzione che c'era stata per la pandemia nel 2020 anche nel 2022 fino a settembre c'è stato un aumento delle emissioni di gas serra e vedremo poi a fine anno il dato di consuntivo ancora non è disponibile per essere allineata sulla rotta delle neutralità climatiche con i paesi avanzati l'Italia dovrebbe avere un target di riduzione di gas serra almeno del 60% entro il 2030 accelerando in modo sostanziale la riduzione delle sue emissioni è in corso come sappiamo la COP27 l'impegno globale per il clima è insufficiente la crisi climatica continua a peggiorare ma c'è una sola possibilità per impedire che si continui a premere l'acceleratore come ha detto il segretario delle Nazioni Unite Gutierrez in questa corsa sull'autostrada verso l'inferno e bisognerebbe le parole pesarle e valutarle con attenzione c'è una sola possibilità per impedire questa precipitazione che i paesi avanzati guidino e accelerino la transizione energetica alla decarbonizzazione trascinando anche gli altri non è che dobbiamo aspettare o le economie avanzate fanno della decarbonizzazione un fattore di sviluppo e di competizione anche economica e tecnologica e trascinano il resto oppure non esiste un'altra soluzione l'Italia dovrebbe stare in questa traiettoria di paese avanzato dotandosi di una legge per la neutralità climatica e non è un caso se gli altri grandi paesi europei Germania Francia Spagna Regno Unito ce l'hanno una legge per il clima cambiando passo e aggiornando i target al 2030 definendo un quadro certo per i settori economici per le regioni e le città e rafforzando le misure di adattamento e quindi rendendo più rapida ed efficace la transizione energetica due parole sull'economia circolare l'Italia come sappiamo è leader dell'economia circolare guida la classifica europea della produttività delle risorse è leader per tasso di utilizzo circolare dei materiali è leader nel tasso di riciclo dei rifiuti c'è qualche pecca ovviamente non manca per il consumo di suolo e di acqua attenzione che questi alti costi dell'energia e anche tassi di inflazione in alcuni settori del riciclo sta creando anche alcuni settori delle difficoltà di mercato di collocazione delle materie del riciclo accelerare e rendere più incisiva la transizione all'economia circolare è per noi molto importante perché ci è utile per migliorare l'efficienza e la produttività per ridurre i prelievi di risorse naturali per migliorare la competitività delle nostre imprese soprattutto le manifatturiere valorizzare e far crescere i potenziali se siamo avanzati abbiamo dei potenziali migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti c'è una gran discussione sulla proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ovviamente il tema richiederà un approfondimento il tempo non ce l'ho la bozza riprende un impianto europeo consolidato quello della gerarchia nella gestione dei rifiuti e dell'ecodesign circolare dei prodotti la modalità di attuazione di questi principi previsti da questa bozza vanno discusse con attenzione su alcuni punti non banali vanno a mio parere modificati per rendere efficaci e praticabili gli obiettivi dichiarati e condivisibili di miglioramento della prevenzione anche curioso e di rafforzamento del riciclo in alcune interpretazioni si tende a contrapporre la prevenzione e il riciclo io penso che chi sostiene il riciclo non può pensare di aumentare i rifiuti per aumentare il riciclo sarebbe come dire aumentiamo lo spreco alimentare così potenziamo l'agricoltura biologica il margine per potenziare il riciclo ce n'è perché smaltiamo ancora molta roba e anche ne bruciamo parecchia nella gerarchia questo dovrebbe essere subordinato però teniamo presente e questa non è un'osservazione banale né conservatrice che il sistema italiano di riciclo dei rifiuti di imballaggio e più in generale del riciclo è come documentano i risultati raggiunti un'eccellenza europea è un modello da rafforzare che può fornire indicazioni utili alla stessa Unione Europea su questa bozza quindi occorre giungere rapidamente con adeguata istruttoria tecnica ad una proposta condivisa da quelli che sono i protagonisti di queste attività i consorzi e le imprese del settore al sostegno di cambiamenti utili per correggere le parti da correggere e migliorare valorizzando l'eccellenza raggiunta dal settore del riciclo in Italia le priorità per la transizione all'economia circolare ripeto che occorre utilizzare in modo adeguato le risorse e le riforme del PNRR anche per la parte dell'economia circolare stiamo discutendo della nuova legge di bilancio ci sono almeno tre misure che sono fra l'altro previste dalla strategia dal documento di strategia nazionale per l'economia circolare che è un buon documento che sono rafforzare il credito d'imposta di transizione 4.0 a sostegno degli investimenti in direzione dell'economia circolare estendere e rafforzare incentivi fiscali per l'utilizzo dei materiali riciclati che è un tema che abbiamo che è di grande attualità e rivedere il sistema di tassazione ambientale sui rifiuti per incentivare la raccolta differenziata e riciclo e disincentivare lo smaltimento in discarica in conclusione in apertura di questi stati generali della green economy io penso che dobbiamo ribadire l'importanza di tenere la rotta della green economy la green economy è l'economia circolare e decarbonizzata è l'economia capace di affrontare e superare le sfide di questa nostra epoca alimentando una transizione ecologica capace di assicurare quindi uno sviluppo durevole perché sostenibile con più occupazione e anche miglior benessere le misure necessarie nell'emergenza per far fronte ai tagli del gas russo e a questi anomali aumenti delle bollette con la differenzazione degli approvvigionamenti di gas con i rigassificatori e con limitati e temporanei riutilizzi del carbone con finanziamenti combustibili possili per sostendere imprese in famiglie non devono essere prolungate oltre l'emergenza né diventare tappe di un ritorno al modello energetico fossile né produrre quindi un sostanziale rallentamento della transizione ecologica ancora meno un'inversione della transizione e degli investimenti delle rinnovabili e nell'efficienza energetica la rotta della green economy circolare e decarbonizzata è in particolare per noi per l'Italia la via per ridurre strutturalmente sia i costi sia la dipendenza dall'importazione di gas e di petrolio per impiegare efficacemente le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza alimentando investimenti e innovazione e anche perché non è male fare la nostra parte per affrontare la crisi climatica che colpisce pesantemente anche il nostro paese grazie per la vostra attenzione grazie grazie grazie